Lo spirito è quello di non scardinarlo il sistema previdenziale, per quello siamo intervenuti votando anche sotto il governo Monti Lafornero, perché sapevamo che messo in mano ad altri, purtroppo il sistema previdenziale sarebbe naufragato totalmente. Quindi da questo punto di vista non scherziamo, non è propaganda. Qualche cosa della Fornero va rivista, sicuramente, perché è stata eccessiva sui lavori usuranti. Altra cosa, Berlusconi lo ha sempre specificato, ma mi è data l'occasione di farlo ulteriormente, abbiamo detto con grande chiarezza che i presupposti della Fornero sono corretti, perché rendono sostenibile ovviamente il carico previdenziale con cui questo Paese deve fare i conti, ma che ci sono delle cose che vanno cambiate, perché quella legge ha prodotto delle iniquità importanti che vanno assolutamente risolte, ne stiamo parlando ancora oggi delle iniquità prodotte dalla Fornero, e quindi ci sentiamo la responsabilità di farcene carico.